Ciao a tutti, mi trovo a Roma al Premio Lucio Dalla, ospite con un grande artista e un grande amico come Daniele Savelli. Ciao Daniele! Ciao Luca, io anch'io sono qui ospite al Premio Lucio Dalla ed è un piacere rincontrarti perché ci siamo visti più di un anno fa quasi. E quindi sono proprio contento di stare insieme come ospiti qui al Premio Lucio Dalla che poi oramai ci appartiene. E quindi ringrazio tantissimo Luca per questo video perché poi io lo apprezzo tantissimo, anzi gli ho proposto di fare, io faccio un tributo a Rino Gaetano, gli ho proposto di fare un tributo aggiungendo anche il suo organetto. Ce la dobbiamo fare, dobbiamo farcela con questo progetto. Dai facciamo un saluto a tutti i fan di Daniele Savelli e di Luca, grazie. Soprattutto di Daniele. No no no, Luca Cocco, Luca Cocco. Salutiamo tutta la Sardegna e tutti quelli che amano la musica. Certo, sempre viva la musica. Ciao, un abbraccio. Ciao.